Infarto improvviso per Vladimir Putin, trasportato d'urgenza in ospedale pochi minuti fa. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. Un'incredibile notizia sta circolando segretamente in queste ultime ore. Il potente Vladimir Putin avrebbe avuto un infarto all'interno della sua residenza segreta nelle ultime ore. Due agenti della sicurezza, fedeli guardie del corpo del presidente russo, si sarebbero precipitati in suo soccorso al momento in cui hanno udito un misterioso rumore proveniente dalla sua camera da letto. Cosa è successo dopo? Dopo aver allertato prontamente i servizi di emergenza, i soccorritori avrebbero lavorato instancabilmente per rianimare Putin, una volta diagnosticato l'arresto cardiaco. In seguito, il presidente russo sarebbe stato trasferito in una struttura segreta all'interno della residenza, equipaggiata per affrontare situazioni mediche di estrema urgenza. Alcune fonti suggeriscono che le sue condizioni si siano stabilizzate, ma è sotto costante monitoraggio medico. C'è un enigma avvolto in tutto questo dramma, e chi è disposto a svelarlo? In una scena degna di un thriller, Putin è stato trovato in uno stato angosciante, accanto al suo letto disordinato, con tavoli ribaltati e cibo e bevande sparsi per terra. Lo scenario è diventato ancora più misterioso poiché il leader russo è stato colto da convulsioni, mentre i suoi occhi sembravano vagare nell'ignoto. Cosa potrebbe essere accaduto? È questa la fine inaspettata di uno dei leader più potenti del mondo, o c'è qualcosa di più, dietro a questa vicenda? Lasciate i vostri pensieri nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.